Expo Vending Sud 2019 in questa ottava edizione della fiera che si tiene a Catania ormai ogni due anni siamo allo stand della Sicil Vending e nell'ambito degli espositori dei prodotti distribuiti dalla Sicil Vending c'è la C-Soft oggi ben rappresentata dalla sua amministratrice Anna Maria Cocco, buongiorno Anna Maria e da Gaian il nuovo developer software dell'azienda. Noi non ci incontriamo da 4 anni, quali le novità di C-Soft qui a Expo Vending Sud 2019? Buongiorno a tutti, le novità della C-Soft sono il nuovo palmare industriale che abbiamo introdotto nel settore eliminando già il vecchio da un po' con un sistema chiave e poi oltre la nuova programmazione non solo di Android ma abbiamo anche la programmazione sulle app con i cellulari e quindi da giugno siamo pronti a partire anche con questa nuova situazione e poi oltre questo le novità che anche Fabio ha appena detto abbiamo un nuovo collaboratore all'interno della C-Soft che a questo punto presentiamo, io perdonami ma riesco a ricordare esclusivamente il tuo nome in questo momento che è Gaian presentiamoci per bene, nome, cognome e funzione Allora sono Gaian Shakti Seneviratne e sono il nuovo sviluppatore alla C-Soft e allora abbiamo fatto questa nuova applicazione su Android basandoci sulla versione che avevamo per Windows abbiamo preso la vecchia applicazione, l'abbiamo portata su Android e adesso ci prepariamo a fare degli aggiornamenti per migliorare il tutto Si è stato rapidissimo, in realtà prima in 30 minuti mi hai fatto vedere tutto il software che è molto ben elaborato c'è tanto davvero da andare a scoprire ma appunto per poterlo scoprire qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per avere maggiori informazioni senza alcun impegno Info, chiocciola, sisoftsrl.it, vi aspettiamo Ecco perché c'è stata una grande evoluzione nell'ultimo periodo e probabilmente vale la pena richiedere maggiori informazioni proprio per capirne di più Anna Maria, grazie, grazie per la collaborazione Grazie a te Fabio e un saluto a tutti Grazie, grazie Gaian Grazie a lei, un saluto a tutti E noi continuiamo qui all'interno dei corridoi di Expo Bending Sud 2019 per mostrarvi tutte le altre novità presentate Grazie a tutti